E' da quattro anni che nessuno mi tocca nell'intimità. Da un anno, ogni volta che posso, vado in una spa, dove lavoro a un massaggiatore. Il suo tocco mi riempie di calore. Che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Che cosa deve fare? Che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Grazie a tutti.